Musica Avete mai provato a riprendere in mano il vostro curriculum, a rileggerlo? Ve lo chiedo perché c'è una parte del curriculum di ognuno di noi che è uguale, che abbiamo in comune tutti quanti. Una parte che poi si ricollega a una storia su John Lennon e Pinfloidi che mi racconto dopo. Comunque, tornando al nostro curriculum, studi, impegni, lavori, riassunti in poche pagine, magari anche voi nel rileggerlo avete provato la sensazione che per quanto possa essere ricco d'esperienza il curriculum, il vostro curriculum, non restituisce mai l'immagine che abbiamo di noi stessi, chi siamo per davvero. E sapete perché? Perché ci concentriamo a leggere le righe dove abbiamo scritto qualcosa, le nostre esperienze, mentre non guardiamo quella parte del curriculum che è nascosta tra una riga e l'altra, tra un'esperienza e l'altra. Non guardiamo quella parte del curriculum, quegli spazi bianchi che nascondono i nostri insuccessi, i progetti mancati, i progetti naufragati, le strade interrotte, le porte che abbiamo trovato chiuso e che non siamo riusciti a aprire, o le porte che ci sono state sbattute in faccia. Ecco, se provassimo a mettere in fila tutti questi mancati traguardi, formeremmo un altro curriculum, un curriculum in parallelo, un curriculum a prima vista nascosto, un curriculum in filigrana, chiamiamolo come ci pare, eppure è quello, quel curriculum in parallelo, è il curriculum più importante che abbiamo ognuno di noi, perché è quel curriculum che custodisce, che conserva le difficoltà che hanno fatto la differenza nella nostra vita, che ci hanno reso quello che siamo, che le hanno dato spessore. Un curriculum così lo abbiamo tutti quanti, anche io ne ho uno, ma non parlerò di quello. Vorrei invece raccontarvi la storia di una ragazza di 25 anni, del suo curriculum in parallelo, di come lei ha reagito di fronte a una porta che le è stata battuta in faccia. Siamo negli anni 50, Rosanna, questo è il suo nome, aveva appunto 25 anni, si laurea e dopo anni passati sui libri vuole fare il prefetto. Si iscrive a quel concorso, eppure viene esclusa da quel concorso. Non perché il suo voto di laurea non fosse sufficientemente alto, non perché lei non fosse preparata, viene esclusa perché nel 1959 in Italia le donne non potevano fare concorsi per accedere alle carriere direttive nella pubblica amministrazione, perché una legge di una quarantina d'anni prima glielo impediva. Eppure all'università, a Rosanna, le avevano insegnato che la Costituzione sancisce che c'è l'uguaglianza tra uomo e donna, eppure la Costituzione sancisce anche che ciascun cittadino dell'uno e dell'altro sesso può accedere agli uffici pubblici senza distinzione, in condizioni di uguaglianza. Eppure, pensate un po', ad insegnargli queste cose c'era stata non uno qualunque, ma una persona che aveva contribuito a scrivere la Costituzione, un padre costituente, un giurista, un professore, Costantino Mortati. Di fronte a quell'esclusione così Rosanna va proprio da lui, va a bussare alla sua porta, gli racconta quello che era accaduto. Lui la ascolta, la lascia parlare, alla fine le chiede, ma queste cose le stai raccontando al professore o all'avvocato? E lei dice, all'avvocato, perché io vorrei che tu mi difendessi. Lui accetta l'incarico e così portano quella questione in tribunale per ottenere giustizia, per ottenere quello che il Parlamento aveva tardato a fare, una legge che garantisse le pari opportunità tra uomo e donna. La questione finisce in tribunale e da lì fino in Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale allora era fatta di uomini e basta. Si riuniscono, discutono, dibattono, alla fine si devono arrendere. La norma che aveva fatto escludere Rosanna da quel concorso era una norma contraria alla Costituzione, contraria al principio di uguaglianza. Va abrogata e il Parlamento ne deve fare un'altra. Era il 13 maggio del 1960, l'anniversario in questi giorni. Ecco, il Parlamento dovette approvare una norma per disciplinare l'accesso delle donne a tante carriere, a quella in prefettura, ma anche in magistratura, nella carriera diplomatica, dopo qualche anno anche nel mondo militare. Pensate, senza quella ragazza di 25 anni noi non avremmo avuto, tanto per darvi un'idea, Samantha Cristoforetti, comandante della Stazione Aero-Spaziale Internazionale. Non avremmo Margherita Cassano, primo Presidente della Corte di Cassazione. Non avremmo Elisabetta Belloni, fino a un paio di anni fa a capo della diplomazia italiana e ora dell'intelligence. Non avremmo Gabriella Palmieri a capo dell'Avvocatura Generale dello Stato, quella che difende lo Stato. Non avremmo avuto, fino a due anni fa, Marta Cartabia, primo Presidente della Corte Costituzionale, proprio l'organo che diede ragione a Rosanna e che ancora ad oggi è guidato da una donna, Silvana Sciarra. Ecco, tutto questo grazie a una ragazza di 25 anni, che non si è voltata dall'altra parte, che ha fatto in modo che le donne che sarebbero venute dopo di lei avrebbero potuto fare, avrebbero potuto percorrere le strade che desideravano. E ha consentito a tutto il Paese di fare un enorme passino avanti. E veniamo ai Pink Floyd e a John Lennon, me l'ho detto. Forse qualcuno di voi ha avuto la fortuna di ascoltarli, dal vivo intendo io, ho avuto la fortuna di ascoltare e di vedere i Pink Floyd. Partiamo da John Lennon, 1971. John Lennon incide una canzone, War is over, Happy Christmas, o Happy Christmas, War is over. Una canzone pacifista contro la guerra del Vietnam. E per rendere ancora più incredibile il messaggio di pace al suo interno, utilizza un coro di bambini dai 4 ai 12 anni, il coro della comunità di Harlem, probabilmente allora il quartiere più povero di New York. E decide inaspettatamente e generosamente di inserire proprio sulla copertina del disco la foto di quei bambini, di quel coro, il loro nome, in modo da far arrivare anche qualche provento dalla vendita di quel disco anche la loro famiglia. E così che i bambini, una volta diventati grandi, avrebbero potuto scrivere sul loro curriculum, non in parallelo ma in quello vero, di aver fatto parte di questa esperienza. 8 anni dopo, un saltino avanti, invece nel 79 i Pink Floyd incidono l'album che probabilmente li consegna la storia della musica rock internazionale, Another Break in the Wall. E proprio per questo brano decidono anche loro di ingaggiare un coro, il coro di una scuola di musica di Londra. Ma nessuno di quei ragazzi ha potuto scrivere sul proprio curriculum di aver fatto parte di questa esperienza, perché Pink Floyd non registra in alcuno modo i loro nomi. Loro dovette aspettare una nuova legge in Gran Bretagna e fare cause e ottenere quei diritti e Roger Waters non l'ha prese benissimo. Perché vi racconto questo? Perché il senso di questa storia? Certamente ascoltare buona musica, possibilmente dal vivo. E quindi andiamo ai concerti. Ma poi c'è un altro elemento. Anche se non ce ne accorgiamo, con le nostre scelte, con le scelte che facciamo ogni giorno, abbiamo la possibilità di incidere positivamente o negativamente nella vita degli altri, di chi c'è attorno. Pensate a come ha inciso Gioleno nella vita di quei bambini, pensate a come ha inciso la scelta di Rosanna Oliva nella vita di intere generazioni di donne in questo paese che hanno potuto fare quello che a lei era stato precluso. Ecco, quando ci fermiamo a guardare il nostro curriculum, quando guardiamo il punto del curriculum della nostra vita, dove siamo arrivati, pensiamo sempre che siamo in quel punto grazie anche a quello che ha fatto qualcun altro. O direttamente con un consiglio, con un passaggio, ma anche molto più spesso, con una battaglia che ha fatto e semmai di cui non conosciamo nulla. Siamo lì anche grazie a quella battaglia di cui noi possiamo goderne soltanto i frutti e semmai non ne conosciamo nulla. Qualcuno che non si è voltato dall'altra parte, qualcuno che ci ha consentito di non ripartire da zero, di non ripassare dal via come in un gioco dell'oca. Qualcuno che si è, ritenuto a parte di una comunità e non necessariamente per bontà d'animo o generosità, ma semplicemente perché in una comunità siamo tutti sulla stessa barca e bisogna remare tutti, perché senza remare la barca si ferma e prima o poi si affonda sempre tutti insieme. Ecco, è il modo in cui noi vediamo noi stessi all'interno della comunità quello che fa la differenza. Se noi ci vediamo come spettatori che si limitano a osservare come vanno le cose, oppure se ci riconosciamo come attori comprimari che possono provare a cambiare le cose, realmente, che possono provare a fare dei passi in avanti, anche se non raggiungeranno dei traguardi, ma potranno portare il percorso a un punto più in là che potrà essere ripreso da chi verrà dopo di noi. Questo vuol dire fare parte di una comunità, questo vuol dire fare parte e fare dei passi in avanti. Spesso i passi in avanti sono stati fatti nella storia di questo paese da persone, da donne, da uomini di cui non conosciamo il nome, nomi e cognomi a noi sconosciuti, a cui non associamo un volto, eppure hanno fatto la differenza, perché fare la differenza è possibile se siamo tutti impegnati a fare la differenza. Sapete chi l'ha detto? Un nome o un cognome che probabilmente non diverrà nulla. James Wood, un ragazzo di 21 anni, che negli anni 60, nel profondo sud desegregazionista degli Stati Uniti, decise, il primo nella storia, di iscriversi all'università di quel paese. La legge glielo consentiva, nessuno prima di lui l'aveva fatto. Dovette escoltare la polizia per farlo entrare dentro il campus tra i fischi degli studenti bianchi, che non volevano uno studente nero in quel campus. Lui si iscrisse, dopo un paio di mesi cambiò l'università, andò all'università del Michigan e ancora oggi nel suo curriculum la parte più importante è quella riga bianca dell'università dell'Alabama. Lui aveva 21 anni ed è stato in grado di fare la differenza, come aprendo gli occhi alla sua comunità e facendo di fare un passo in avanti. Ecco, fare un passo in avanti vuol dire, non vuol dire necessariamente essere grandi e avere esperienza, non dipende da quanti anni abbiamo, non dipende da quante esperienze abbiamo fatto, non dipende dal luogo dove siamo nati, non dipende dal lavoro che facciamo, né dal ruolo che ricopriamo. Fare le differenze in un paese vuol dire giocare le carte che la vita ci ha dato in mano, cercando di rendere migliore il pezzetto di mondo che noi stiamo accalpestando, la nostra famiglia, la nostra scuola, il nostro lavoro, la nostra università, la nostra città, il nostro paese. Ecco, noi qui ed ora siamo in questo paese, in Italia, e abbiamo tutti la possibilità di rendere un paese migliore, come vorremmo che fosse, senza essere semplici osservatori o spettatori. Un caro amico scomparso troppo presto diceva che la speranza, David Sassoli, diceva che la speranza siamo noi, siamo noi quando non chiudiamo gli occhi, quando non alziamo muri, quando combattiamo contro le giustizie. Ecco, la possibilità che abbiamo è fare dei passi in avanti, passi in avanti per rendere migliore, come vorremmo che fosse questo paese, per fare in modo di cambiare il paese e non cambiare paese. Buon cammino a tutti.